Mi è stato segnalato dall'Asla un nuovo caso di contagio da Covid-19. Si tratta di una turista proveniente dalla Spagna che è giunta ad Agropoli. La comunicazione arriva da parte del primo cittadino Adamo Coppola nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre. La donna è arrivata all'aeroporto di Capodichino, continua il sindaco Coppola, ed è stata sottoposta a tampone, quindi si è recata accompagnata dal compagno che è andata a prenderla presso lo scalo in un B&B ad Agropoli. Riscontrata la positività, i vigili urbani si sono prontamente attivati individuando la struttura, comunicandole di dover osservare l'isolamento per 14 giorni che verrà espletato presso la struttura ricettiva. Verificata dunque la catena dei contatti, la stessa è restretta al solo compagno, già in quarantena con lei e pari a zero per quanto riguarda la nostra città, conclude il primo cittadino Adamo Coppola.